Pronto, mi sente? La sento, buonasera. Buonasera, mi chiamo Vincenzo Regolo. Salve. Per quanto riguarda il problema del buco dell'ozono, vorrei dire che io preferisco il buco del culo, ha capito? È un problema di gusti, ma tutti sono assolutamente leciti e noi per questo non la criminalizzeremo. La ringrazio per il suo contributo, forse avrebbe potuto fare di meglio magari in un'altra circostanza, non disperiamo che le lo possa fare. Allora, ricordo il numero di telefono e anche che chiunque può intervenire come l'ultima telefonata dimostra in abbondanza.